Prima voglio dire che mi è dispiaciuto vedere lo che ha accaduto a Leni, a Pisa e a Prudenzio. Il ministro dell'interno, farebbe fare i compendimenti necessari, se qualcuno sbagliate. Ma se qualcuno ha sbagliato, forse l'ha fatto, deve essere a posto, giustamente, a azione disciplinare, ma questo non significa che si mettono sotto processo tutte e tante. Diciamo che la responsabilità è individuale. Se qualcuno ha sbagliato, è giusto che non è sbagliato. La terza era 1,2, 3, 5, 1 posto, vedrò che sono stanueone di mili y decine di anni. C'è chiaro che non si tolga l'uomo. perché sono donne e uomini che ogni giorno rischiano la pelle per quattro soldi ogni giorno o no hanno famiglie che li aspettano e poi magari qualcuno non torna sono tutti figli del popolo non sono figli di rari fascini ma sono donne e uomini e aveva ragione a vita giugno anni sessanta da una parte c'erano figli del popolo che erano le elezioni carabinieri e dagli altri c'erano studenti questo non significa dire che sbaglia voglio essere molto chiaro un grande rispetto che la loro del capo del Stato che sbaglia deve essere sanzionato la ripeto la responsabilità in quella che è la parte del diritto è sempre e comunque individuale un uomo che è un sbagliato e sono altri ogni giorno in tutte le manifestazioni sono state più di 700 manifestazioni autorizzate dal governo per la prossima però essi risultati discutano in faccia provocavi in continuazione grazie a tutti grazie a tutti